Ciao ragazzi, come state? Oggi nuovo video ASMR, sono emozionata perché Allora l'ho visto da un sacco di youtuber ASMR artist E in più l'ho visto da una che segue Martina Marti B, ciao Marti, Marti B con la B di Bologna E lei ha molte scarpe bellissime, stupende, meravigliose Lei ha una bellissima voce, fa dei bellissimi video Seguitela, vi lascio il link qui sotto, sotto la mia faccia Vi faccio vedere le mie pochissime scarpe con il tacco E vi faccio un po' di tapping, ve le parlo anche un pochino Vi dico magari il prezzo, dove lo comprate, se sono comode, eccetera Se volete vi faccio anche un video, magari domani, oggi o stasera Dove ve le mostro tutte indossate, ok? Fatemi sapere con un like, un commento se vi interessa Viva i feticisti Gli amanti dei piedi, no scherzo Questo video spero sia rilassante Non so sinceramente più che video fare E quindi guardo in giro Spircio tra gli altri canali che video fanno le altre ragazze Martina non è famosa E quindi ho detto perché non fare anch'io questo video Martina ha un bel canale È molto brava, dovrebbe crescere come ASMR Artist Perché è molto molto brava Ciao Marti Iniziamo Prima scarpa che ho comprato, questa qui Che è uno stivale Molto basso Il tacco quando l'ho comprato era alto Almeno 7-8 cm Anche forse 10 cm Adesso li ho aggiustati l'anno scorso E il tacco si è abbassato Già si era abbassato Perché si era rovinato Ed era praticamente inesistente Quando l'ho portata dal calzolaio Questo paio di stivali me li ha ancora più abbassati Io non gli ho detto che erano alti Perché non me lo ricordavo E quindi il calzolaio mi ha lasciato il tacco basso Pensando che li avevo già comprati i passi Ma erano più alti Comunque questo è lo stivale Con le porchie Invelluto Invernale Camoscio Sembra più che invelluto Finto camoscio Ovviamente Cinese Mi sembra che li ho presi da scarpe scarpe O da take Ma non mi ricordo Comunque sono molto morbidi Già usati Non sono nuovi Viene di polvere Però Con la suola così Vedete c'è Un minimo di plateau Ma proprio piccolo Minimo proprio Ed è un po' fatto tipo Camperos come stile Non so se avete presente Con queste fibiette qua E poi con tutte queste porchie Da questa parte E anche dall'altra A tutte queste porchie Io ve le ho fatto vedere uno solo Per non prendervi Quattro paio di scarpe Ma ve le faccio vedere uno solo Tra le tre paio di scarpe Con il tacco che ho Poi ho anche un paio di stivali Che se volete ve li faccio vedere Ma nel mio primo canale Ad essere channel Li avete già visti Indossati Tutte queste scarpe Perché le metto sempre Sia in inverno Che quegli stivali Anche in primavera Li ho comprati a ottobre Quindi le metto anche da autunno E li metterò anche in primavera Perché sono sottili Sono molto morbidi Dentro Sono fatti così Con questa plastica Non so se vedete Ok Molto bello Ho fatto anche il roleplay Negocio di scarpe Il roleplay Ne ho fatti tantissimi C'è la soletta Che si sta rovinando Sono vecchissimi però Sono molto morbidi Comunque il tacco è questo Vedete che non è molto alto Dentro si sta rovinando Tutta la soletta Perché col sudore È ovvio Sono un po' a punta Vedete Il davanti com'è Il tacco è questo Me l'ha aggiustato Il canzolaio Perché era almeno alto Così Quadrato Bello largo Però era più alto Comunque È comodo Mi piace E questo è uno A me piace tantissimo Lo stile camperos Negli stivali Poi ho Due scarpe eleganti Quegli stivali Erano da tutti i giorni Questo qui È una scarpa Che secondo me Così Non indossata Non capite com'è fatta È una zeppa Prima di tutto Invernale Anche questa Molto molto alta Vedete Almeno un 8 centimetri O forse 10 Anche questo 38 39 Come scarpa Porto io E ha il cinturino Che praticamente Mostra solo Il collo del piede Non fa vedere Troppa pelle Va bene così Poi dipende Sempre dalle calze Che indossate Queste sono vecchissime Le ho da 5 anni Almeno Sono fatte così Sono molto morbide Non fa nessun rumore Sono anche queste cinesi Da scarpe scarpe Pagate Pagate mi sembra 30 euro E le altre anche 25 o 30 euro Una zeppa molto morbida In camoscio Finto camoscio Finto velluto Bellissima Molto elegante Le ho usate un sacco Per un sacco di matrimoni Invernali Per i miei parenti Anche quando ero più giovane Perché sono da 5 anni Che le ho Anche quando ero Diciamo più piccola Tra virgolette Sono molto belle Molto comode Sono altissima Con queste scarpe Per via del tacco Però sono comodissime Questa invece È una scarpa Da scavalco Come la chiamo io Una scarpa Hot Una scarpa Molto Con carattere Diciamo Una scarpa Molto particolare Questa è altissima Come tacco Infatti la metto Proprio Quando devo camminare poco Nelle occasioni Speciali Diciamo Dove voglio Osare un pochettino Perché ha un tacco Troppo 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 A punta Io di solito Non li metto I tacchi così Sottili A punta Perché non riesco A camminare Soprattutto nelle strade Con i quadretti Il ciottolato Le pietre Non sono capace A camminare con i tacchi Infatti ho poche scarpe Con i tacchi Però le adoro Da vedere Nei negozi Sono bellissime Queste le ho prese Da Takeman 25,99 euro Costavano L'anno scorso Nel 2017 Le ho comprate E sono con le porchie E hanno Come vedete Qui una bella cerniera Sono basse Vedete Sono anche un po' Stondate A punta Proprio tipo uno stivaletto Sono bellissime Nere ovviamente Tutto nero Io non ho scarpe colorate A parte estive C'è una bella cerniera E di qua sono Semplici A parte Questo dettaglio Particolare Molto rock Stay strong Molto strong Ok Della marca Graceland Dentro c'è scritta La marca Questo è un bel tacco Alto Dietro sono così E sono pazzesche Sono veramente stupende Da mettere una volta ogni tanto Non tutti i giorni Però sono molto belle Andate a prendere lo stivale L'unico stivale alto che ho Anche perché Questa primavera estate Quest'inverno Vanno molto di moda Gli stivali alti Al ginocchio Il mio primo e ultimo Paio di stivali alti Hanno un bel tacco Questo qui quadrato Bello piantato Bello spesso Sono appunto Finta pelle Plastica Sono così Ok Con questo cinturino Con questo cinturino Così di acciaio Lucicante Tutto Lucicoso Lucido E il tacco è questo Riesco a camminare benissimo Per tantissime ore Con questo tacco così Con questo stivale Veramente comodissimo Costato anche questo Mi sembra Sui 29 30 euro 28 29 euro Con i saldi L'ho comprato l'anno scorso D'inverno No Mi sembra A ottobre L'ho comprato Non era ancora inverno Era autunno Però comunque L'ho messo anche in primavera Tiene un pochino freddo Perché non è primaverile Però va bene anche in primavera Con dei vestitini D'inverno va benissimo Ovviamente Non per la neve Però Per camminare Per quando ci sono le giornate di sole Io di solito Gli stivali con i jeans Non li metto Però C'è anche chi mette gli stivali Dentro i pantaloni O i pantaloni Dentro gli stivali Ma io non li sopporto Comunque sono bellissimi Da scarpe scarpe Gli ho presi questi Sono già rovinate Sono altissime Ok così Hanno una fibietta qua Di disegni Hanno anche una cia nera Una minuscola cia nera A metà gamba La punta è così Molto molto belli Veramente Molto molto belli Vedete com'è così Il tacco è questo Anche questo È un 8 centimetri Mi sembra come altezza Io non vado Sui tacchi Da 15 centimetri Perché come ho detto prima Non riesco a camminarci Se volete Vi faccio magari Dei roll play Anche se ve li ho già fatti Queste sono le mie scarpe Con il tacco Basta Non ne ho altre Da piccola avevo le ballerine Ma non hanno il tacco E avevo anche un paio Di zeppe estive Ma le ho dovute buttare Perché avevano la muffa Purtroppo A stare in cantina Colpa mia Mi dispiace Me le aveva regalate Anche mia zia Scusami zia Perdonami Le ho messe poco Quelle scarpe Le zeppe aperte Con un fiore Erano marroni Non mi piacevano molto Sinceramente il colore Però le ho lasciate in cantina Non le ho Messe Praticamente A parte 2-3 volte Basta Erano anche abbastanza alte Io non riesco a camminare Con le scarpe troppo alte Con la muffa Le ho dovute buttare via Non credo Di averle più Le ricomprerò comunque Scusami zia Perdonami Faccio sempre delle cavolate Comunque questo è il video Queste sono le mie scarpe Con il tacco Spero vi piacciono Se volete vi faccio anche un altro video Sulle mie scarpe basse Ma ho già fatto dei roleplay Dove vi mostravo le mie scarpe Da tutti i giorni Da ginnastica Estive Primaverili Quindi Lasciamo perdere Forse è meglio A presto Rilassatevi Commentate Iscrivetevi al canale Se volete Vi voglio bene Ciao ragazzi Quale scarpa vi piace di più Tra quelle che vi ho fatto vedere Ciao ragazzi